Una carrellata di barzellette per sorridere insieme. Mi piacciono le ragazze come il covid. 19 e facili da spargere. Perché i programmatori python indossano gli occhiali? Perché non riescono a vedere? C. Come chiami quattro messicani in una sabbie mobili? 4-5. Dove vanno le navi da crociera quando stanno male? Dal dottore? Doc. Che tipo di moto cavalcava Babbo Natale? Una Holly Davidson. Mia madre mi dice sempre. Non sarai mai nulla perché procrastini. E io? Aspetta e vedrai.